Una super fondazione per semplificare il modello di gestione puntando sull'incremento dell'efficienza del sistema museale piemontese e sulle sinergie fra Gamma e Castello di Rivoli. Su questo tema si è confrontata il 30 maggio la Commissione Cultura del Consiglio regionale presieduta da Michele Marinello dopo aver ascoltato la comunicazione dell'assessore regionale competente Michele Coppola. Oggi è iniziato un percorso in Commissione Cultura, un percorso che vede l'assessore confrontarsi con le forze politiche per capire qual è il futuro della cultura, della fondazione Torino Musei, del Castello di Rivoli, della Galleria Alte Moderna, cioè di tutte quelle istituzioni che in un momento di grande contrazione delle risorse sono in difficoltà e credo che la strada indicata dall'assessore sia quella buona, cioè quella di creare delle sinergie nuove e di riformare il sistema culturale piemontese.